Cosa becchiamo oggi? Non c'è niente da beccare, povere papelettochette. Senza acqua, paperine, aspettando l'acqua, eh lo so, non arrabbiate, capisco, come un nefene. Sì, non c'è niente da beccare, non c'è niente da beccare, non c'è niente da beccare. E dateci qualcosa da mangiare, che non abbiamo niente, né acqua né pane. Oggi non si mangia e non si bema. Sì, non c'è niente da beccare. Non c'è niente da beccare.